Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori soundbar Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento E adesso passiamo alla top 3 delle migliori soundbar Quindi cominciamo con la soundbar Bose Iniziamo questa top con il marchio più famoso nel mercato delle soundbar con questa fantastica Bose Questo modello non è l'ultimo nato in casa Bose ma è un modello che per me è ancora al top e che a livello di rapporto qualità prezzo è eccellente Inoltre è attualmente in offerta speciale con uno sconto del 13% L'aspetto positivo di questo modello è che non è necessario affiancargli un subwoofer, la soundbar è più che sufficiente È un modello compatto e non occupa molto spazio quindi per chi non vuole installare una soundbar con tanti piccoli altoparlanti Questa soundbar è perfetta per voi È presente anche un pulsante per i bassi quindi se vi piacciono i suoni bassi potete ottenere qualcosa di buono con i bassi integrati in questa soundbar Il telecomando consente di regolare e controllare tutto e naturalmente è possibile utilizzare questa barra audio per il televisore e il bluetooth per riprodurre la musica dal telefono ad esempio Per la tv è perfetto perché i dialoghi si sentono benissimo e il suono è molto chiaro Poi troviamo la soundbar LG QP5 Poi ecco un'altra soundbar molto compatta e ultra semplice da usare con questa soundbar LG Ciò che dovete sapere è che questa soundbar è in super promozione al momento con oltre il 60% di sconto Il che la rende ancora più economica della Bose che viene venduta a 700€ di base Ciò che colpisce di questa soundbar LG sono le sue dimensioni In effetti è quasi piccolo e compatto come un altoparlante portatile il che è davvero pazzesco Tuttavia il suono all'interno di questo diffusore è assolutamente incredibile Ciò è dovuto al fatto che all'interno di questa soundbar sono presenti 5 diffusori in totale Ognuno in una direzione diversa che offrono un suono pieno, rotondo e perfetto Perfettamente udibile da ogni punto della casa Ciò consente di ottenere 720 gradi di suono Un valore enorme per una semplice soundbar senza dover installare diffusori aggiuntivi L'unica aggiunta è un subwoofer wireless per bassi più profondi E per finire ecco la soundbar Sonos Arc Per concludere torniamo a una soundbar più classica ma comunque semplice da usare Questa soundbar è effettivamente più grande dei due modelli precedenti Ma è comunque abbastanza sottile per poter essere installata facilmente senza occupare troppo spazio Il bello è che questa soundbar ha un suono davvero eccezionale Con un suono Dolby 3D ultra preciso e potente Si può usare per guardare la tv, giocare ai videogiochi o ascoltare la musica Il suono per me è già eccellente così Ma è possibile aggiungere un subwoofer aggiuntivo del marchio per ottenere ancora più bassi se volete Infine la tecnologia che amo di questa soundbar è Trueplay Ciò consente alla soundbar di adattarsi automaticamente all'acustica della stanza per una migliore qualità del suono E' bene sapere che questa soundbar è compatibile con Airplay 2, Alexa o Google Ecco grazie per aver seguito questa top 3 Spero che ti sia stata utile Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale E' sempre un piacere Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione Puoi vedere tutto ciò E su questa nota ti dico a presto per un nuovo video